Fabio l'uomo del nuovo presentaci questa bellissima vettura alfa tonale sprint 130 cavalli hybrid una delle poche vetture in italia pronta consegna è un caso che l'abbiamo che l'abbiamo qui purtroppo perché non è così facile averle questa è appunto una versione sprint quindi una versione di buon livello di accessori che viene più o meno sui 41 mila euro ma se avete partita IVA se avete qualche permuta particolare potrebbe esserci un extra sconto vediamo l'interno qui abbiamo un fantastico interno pelle e tessuto che forse è l'ideale in quanto il tessuto traspira d'estate mentre la pelle è più resistente nei punti dove si sfrega salendo e scendendo quindi i sedili durano più a lungo vettura ovviamente cambio automatico di serie su tutte e motorizzazione hybrid 130 cavalli mild hybrid quindi è veramente un motore semplice sul quale intervenire e che rispetta un po la tradizione benzina ma che permette di consumare molto meno grazie al sostegno dell'elettrico venite a trovarci a provarla grazie a tutti grazie a tutti